Carissimi fratelli e sorelle, vogliamo pregare questi nove giorni con San Giuseppe, alla novena a questo santo patrono della Chiesa Universale. Vogliamo invitarti a pregarla con noi. Oggi meditiamo San Giuseppe come capo della Sacra Famiglia. Preghiamo oggi in questo giorno specialmente per tutte le famiglie, per le famiglie del mondo intero, e vogliamo invitare proprio te a pregare per la tua famiglia. Chiedi al Signore per l'intercessione di San Giuseppe, per la necessità di cui la tua famiglia ha più bisogno. Chiedi per l'unità della tua famiglia, per la pace nella tua famiglia. Unisciti a noi e preghiamo per le famiglie del mondo intero, quelle che hanno bisogno di una grazia speciale. Santa Teresa ci insegna a guardare a San Giuseppe come padre e protettore, come il mediatore per mezzo del quale abbiamo tantissime grazie. Non si può pensare, secondo Santa Teresa, di amare la Vergine Santissima se non ci fosse stata l'intercessione di San Giuseppe nella Santa Famiglia, che anche noi in questi giorni possiamo crescere nell'amore a Giuseppe. Preghiamo insieme. Giuseppe, figlio di Davide, non temeri di ricevere nella tua casa Maria, tua esposa, perché quello che è stato generato in lei viene dallo Spirito Santo. Darà alla luce un figlio, al quale darai il nome di Gesù. Prega per noi nostro padre San Giuseppe e saremo dei delle promesse di Cristo. Dio Onipotente, per le preghiere di nostro padre San Giuseppe, al quale hai affidato le primizie della Chiesa, concede che essa possa condurre alla pienezza e misteri della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amén.